Ciao! Ciao! Io sono Leonardo, io sono Diago, io sono Simona e io sono Carlos, siamo una famiglia italo-spagnola e abitiamo nella provincia di Pisa, in Ponta Serchio e siamo parte della rete di Home Exchange da circa sei mesi. Sì! Il nostro primo scambio è stato, siamo andati a Friburgo e è stato tutto perfetto, bellissimo, la casa era stupenda e una cosa molto carina è che i bambini oltre a essere insomma contenti della casa, di tutte le cose, di tutto, sono diventati anche amici dei vicini di casa, dei bambini di cui era la casa. Ci siamo trovati veramente a casa e quindi per noi è stato veramente un privilegio poter entrare a formare parte di questa rete e ampliare anche un po' il cerchio di conoscenze di gente che con lo stesso spirito partecipa a Home Exchange. Quindi qua l'invito a approfittarne di questa rete meravigliosa per poter esplorare il mondo, conoscere altre persone, altri posti. E siamo molto contenti. E siamo tutti molto contenti. Quindi un saluto da Ponta Serchio, un angolo più bello della Toscana e... Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Ciao!